Esordio rabbioso e vincente per il campo basso di Cudini che travolge 3 a 0 l'aprile al quinto Ricci su cui piovono secchiate d'acqua, tanto da far temere, il rinvio del match ad un'ora dalla partita. Così non è, le nuvole concedono una piccola tregua, il tempo di ridisegnare le linee del campo e via alla gara diretta dal pescarese Gregoris che vale il ritorno alle competizioni di quarta serie dopo sette mesi dall'ultimo ufficiale. Rosso-Blu accompagnati nella provincia Pontina dalla dirigenza al completo. Al campo basso basta un minuto e venti per la prima palla gol, lancio profondo di Fabriani, Cogliati in mezzo a due arancioni e bravo nel pallonetto ma la palla bacia alla parte alta della traversa. Si deve ricorrere all'accensione dei riflettori al quinto Ricci per le tenebre incombenti mentre l'Aprilia di Corvia cerca di farsi luce nella metà campo avversaria senza tuttavia chiamare in causa Raccichini. Lupi avanti al diciannovesimo con Vitali che scappa sul filo del fuorigioco in area di rigore regolare, mette al centro dove Mario Esposito allontana. C'è lì appostato Bontà che non si fa pregare due volte per insaccare l'1-0 in girata. Davvero scarso il costrutto dei laziali nella prima frazione mentre sono i rosso-blu che sfiorano alla mezz'ora il bis con Esposito fermato sulla linea non dal portiere ma dall'avversario omonimo Mario Esposito. Il campo basso si fa apprezzare per grinta e determinazione. L'Aprilia tenta di riequilibrare i destini della partita al 34esimo ma il mancino dal limite di La Penna è molto impreciso. Quadrata la squadra di Cudini geometrica l'azione del 42esimo di prima da Cogliati a Bontà fermato dall'uscita rapida di Frasca. Un minuto di recupero e tutti all'intervallo. Il campo basso del secondo tempo è intenso e nel primo scorcio tiene l'Aprilia nella sua metà campo al sesto testa alta sopra la traversa da parte di Vitali. Corvia prova a scuotere i suoi dal diciottesimo dentro Wedraogo fuori Pezzone. I laziali hanno un sussulto a diciannovesimo quando Menna in area affronta Noman che cade. L'arbitro ferma il gioco ed ammonisce il giocatore Pontino per simulazione. Sul quinto Ricci di Aprilia riprende un diluvio di altri tempi che condiziona in maniera evidente il resto della partita. Al 22esimo il destro da fuori di Brenci termina a lato. Brenci fa un nuovo tentativo solo un minuto dopo. Stavolta con la presa di Frasca. Al 25esimo cross al bacio di Bontà solo sfiorato da Cogliati ma mancato. Al centro da Candelori alla mezz'ora esatta il campo basso scrive probabilmente la parola fine sulla gara. Prima ragiona sul passaggio a Candelori parliamo di Esposito. Poi decide con profitto di fare tutto da solo andando via due avversari e bruciando Frasca con un tiro sotto il set. Rete da incorniciare e che merita di essere riproposta. Campo basso 2 Aprilia 0. La squadra di Cudini può giocare in discesa. L'ultimo scorcio di partita al 35esimo sotto un diluvio incredibile. Lo stesso Esposito a lasciare il posto a Sforzini che bagna in tutti i sensi il suo debutto con il campo basso. Al 37esimo il Tris che è una delizia confezionata sull'asse Sforzini. Vitali che fa proseguire per Cogliati che si inventa un pallonetto da applausi. Il terzo gol è servito per l'esultanza che rimbomba dei dirigenti rosso-blu nel vuoto di spettatori del Quinto Ricci. Doppio cambio negli ospiti dentro Martino e Tengorang in luogo di Fabriani e Bontà. Cudini esaurisce i cambi facendo esordire il neo arrivato caricati che rileva Vitali. E gettando nella mischia anche di Domenica Antonio al posto di Cogliati. A fine gara rammarico per gli arancioni che hanno regalato a Raccichini una domenica di ferie. Festa grande in casa Campobasso che conferma i progressi già evidenziati e la forte volontà di recitare un ruolo di protagonista in campionato.